Barbara Di Giglio, vice direttrice di ELL e digital director di ELL.com.it che intervisterà Marta Donà, CEO di La Tarma. Prego. Noi vogliamo sapere tutto, mi raccomando, non lasciate niente. No, ci mettiamo comode intanto. Anche noi, anche noi. Ci mettiamo comode. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Marta. Buon pomeriggio. Vorrei partire con leggere una cosa che secondo me vi piacerà. Da sempre, con un piede a terra e uno sospeso. Sbilanciate verso il futuro, abbiamo idee che trasformiamo in realtà. Sviluppiamo progetti che creano incontri e scontri. Siamo sempre pronte a superarci. Questo è il manifesto della Tarma Management, che è l'azienda che hai fondato nel 2011. Tu oggi sei una delle manager più potenti e rilevanti del panorama musicale italiano. Tra i tuoi artisti citiamo Marco Mengoni, Francesca Michelin, Angelina Mango, tra le ultime, Stefano Di Chele, quindi un bel parterre. Ale Cattelan. Ale Cattelan, come dimenticare Ale Cattelan. Però volevo chiederti come è iniziato tutto e soprattutto chiederti una curiosità. Adesso mi trasformo un po' in fagnani. Lei che belva si sente, visto che la sua azienda si chiama La Tarma? Allora, ciao a tutti intanto. Ciao. Io, come si può immaginare, sono agitatissima. Mi piace tantissimo il mio lavoro perché si fa dietro le quinte. Quindi mi scuso se risulterò un po' frittolosa e agitata. Allora, che belva mi sento? Dovrei rispondere una Tarma. Capito, ti ho dato il la. Dovrei rispondere così. In realtà la Tarma nasce precursore di Arcomi perché è l'anagramma della Marta. Come notizia. Esatto. È l'anagramma del mio nome. Fare una citazione sempre altissima. Esatto. E devo questo nome, nel bene o nel male, a Rosario Fiorello che quando, vent'anni fa, quindici anni fa facevo promo, promozione, prima in MN e poi in Sony Music giocava sul mio nome. E io poi nel 2009 apro Twitter, mi pare fosse il 2009, dovevo trovare il nickname e quindi decisi la Tarma. E quando poi mi trovai a decidere il nome della società, i giornalisti ormai mi conoscevano come la Tarma e quindi decisi di chiamarlo così. Invece sì, il manifesto ci tengo tantissimo ed è effettivamente quello che noi cerchiamo di fare. Perché nonostante il nome sia l'anagramma del mio nome, la mia più grande ricchezza è tutto il team che ho insieme a me. Adesso siamo 18. caspita. Sì. Ho iniziato... Tutte donne. Sì. E io e la maffi siamo le più vecchie, mi sa. Non lo vedo, non so, non la vedo più la maffi. È lì. Sì, tutte donne. Ora, non è un accondizio, ecco, essere, cioè puoi lavorare da noi solo se sei donna. No. Però quando... Adesso non li faccio quasi più neanche io i colloqui. Però nel passato, quando ci è capitato poi di fare proprio gli incontri, i colloqui con le singole professionalità, poi andando in buto capitava sempre che la persona giusta fosse una donna e quindi non... e me ne vanto. E come si struttura il tuo team? Che tipo di professionisti hai bisogno? Allora, io dirò una cosa che forse non è propriamente corretta, però io decido tutto con la pancia. Quindi, a parte gli scherzi, prendiamo tantissimi ragazzi, ragazze dall'università, molte anche dalla cattolica, tra l'altro, perché mi piace tantissimo formare le persone, no? Ci piace. E ovviamente ci sono alcune professionalità che arrivano, tipo Francesca Maffetti, che arriva da tanti anni, più di dieci anni da Ingo Igest, la società di Dalia Gabersic. Però per dirti, Valentina Mariani, che è la mia responsabile brand e anche tutta la parte di Art Direction, degli album dei nostri artisti, lei lavorava in Versace e disegnava. Lei è una disegnatrice da Versace. Io la incontro, le parlo un po', faccio i miei soliti stream of consciousness, parlo, 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 parlo. E lei era entusiasta e gli ho detto, secondo me tu potresti fare questo lavoro. E lei mi dice, ma io non so niente. E dico, guarda, iniziamo, stai con me e proviamo a lavorare insieme e vedere come va. Adesso questo è il settimo anno. E lei per dirti ha proprio stravolto la sua vita da disegnatrice, entrata lavorando per la parte branding, che è una parte a cui io tengo tantissimo, perché penso sempre che gli artisti per i quali noi lavoriamo non siano degli appendini, ma che tutte le cose che vengono fatte con i brand siano con i brand e non per i brand. Ed è un plus sia per il brand che per l'artista stesso, che ci sia una organicità nel rapporto con il brand e coerenza. E poi stando dentro, perché poi la nostra società è molto dinamica, fluida, lei si è resa conto che le piaceva seguire i videoclip, quindi la creatività dei videoclip, piuttosto che scegliere l'agenzia creativa per sviluppare il font di un album, oppure la locandina di un tour. E quindi piano piano si è presa anche quel pezzetto del... Che bel lavoro che fa. Sì, è figo. Molto bello, molto bello. Ma torniamo a te. Come sei arrivata, dove sei arrivata oggi? È un percorso, diciamo, non lineare e neanche rapidissimo, che però, diciamo, come poi tutti i viaggi più riusciti dentro ha avuto delle tappe complesse. Ce le puoi spiegare, ce le puoi raccontare? Sì, io ho iniziato, mi sono laureata in scienza della comunicazione, editoria e giornalismo a Verona e pensavo di voler farla giornalista. Scrivevo anche per... Scrivevo, ecco. Scriva chiaro. Attenta che un attimo, eh. No, no, no. Scrivevo però per la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso, c'è. E nel frattempo però mi trasferisco a Verona e lavoro per il Teatro Nuovo, che è uno dei 14 teatri stabili d'Italia. E facevo le fotocopie, delle fotocopie, delle fotocopie, dell'ufficio stampa del Teatro Nuovo. Però è stato super formativo perché ho imparato a fare bene le fotocopie. No, è stato formativo. Diciamo, lavoravo e studiavo e cercavo di capire che cosa volesse dire anche fare l'ufficio stampa, non facendolo perché ovviamente c'era un ufficio stampa, però osservavo tantissimo come erano. Poi mi sono laureata e sono andata in Spagna a vivere un anno, a fare tutt'altro. Volevo imparare la lingua e così mi sono fatta un'esperienza via. Poi sono arrivata a Milano e mi hanno preso in MN, che esiste tuttora, all'epoca era una società di comunicazione, adesso in realtà fanno anche management, e ho avuto un contratto di sei mesi. Ho lavorato lì per due anni più o meno, avevo fatto uno step in più, facevo una fotocopie o meno rispetto al passato, però lavorando da loro ho avuto la possibilità di conoscere il mondo dalla discografia, perché lavoravamo uno degli artisti era di Sony Music. E all'epoca direttore generale, che ora è direttore generale di Live Nation, che si chiama Marco Boraso, mi vide e mi disse, ma ti va di provare a venire da quest'altra parte, però non ti posso fare un contratto se non per tre mesi. E io ho detto sì, ho accettato, sono andata in Sony e in realtà mi hanno messo a lavorare subito con una, che è stata la mia mentore, diciamo in quel periodo tantissimo, e mi ha insegnato tanto di quel mestiere che è Delfina Cribiori, che è mancata da poco, però lei mi ha insegnato tutto di quel lavoro e lei dopo due mesi ha chiamato il nostro capo e ha detto, questa qua ha lavorato tanto, facciamole un contratto. E quindi poi ho fatto il Sanremo con lei, che era stato bello impegnativo, perché era abbastanza tosta, e poi ho iniziato quindi a lavorare in Sony, io ho preso il suo posto dopo poco perché lei è andata in pensione, quindi è una super responsabilità. E dopo due anni, quasi tre, uno degli artisti per i quali lavoravo ha fatto la follia di... Infatti perché Marco ti ha proposto di diventare la sua manager, che è partito tutto da lì, è partito tutto da lui. Sì, lui era uno degli artisti per i quali lavoravo, quando lavora in discografia ci sono alcuni artisti dove tu sei l'ufficio stampa diretto e poi altri dove magari devi fare coordinamento degli uffici stampa esterni. Marco era uno dei quali io ero l'ufficio stampa diretto, come J-Ax, come Bersani, ce ne erano tanti. Però Marco, diciamo, l'avevo conosciuto dal giorno zero ed ero il suo ufficio stampa. E lui un giorno, mi ricordo anche bene, dove Piazza Mazzini a Roma mi ha detto, mi accompagni a comprare le sigarette? E io ho detto sì. Siamo andati lì nella rotonda, abbiamo passeggiato e mi ha detto, senti, io ho deciso, cioè vorrei che tu mi facessi da manager. E io gli ho detto, ma sei pazzo, io non lo so fare, non sono capace, non è il mio, io voglio il meglio per te, quindi no. E lui mi ha detto, ma secondo me invece la caratteristica principale del manager è la fiducia, io di te mi fido. Però io comunque non ci credevo di essere in grado. E quindi gli ho organizzato gli incontri con tutti i manager della discografia. E li ha fatti tutti, li ha incontrati tutti. E alla fine mi ha guardato e mi ha detto, allora, sono più bravi di te, e questo è vero. Però io... Hanno forse solo più esperienza. No, ma sicuramente erano più bravi di me, neanche io veramente non avevo idea. Però lui mi ha detto, dove non arrivi tu, arrivo io. E al massimo, se ci va male, io torno in università e tu torni in azienda. E quindi lui ha visto qualcosa in me che io effettivamente non avevo visto, evidentemente. Ma sai che c'è questo neduto curioso? Ho provato a googolare il tuo nome. Sì. E tra le prime ricerche correlate esce questa domanda che ti leggo. Chi è Marta per Marco Mengoni? E secondo me questa è l'occasione giusta per spiegarlo tu. Bisognerebbe farla lui però. Però la domanda, adesso ci abbiamo qui tutta la faccia da te. Secondo te lui che cosa risponderebbe? Ma lui c'è sempre per me, io ci sono sempre per lui. Quindi non lo so come definirlo. Probabilmente non lo saprei definire con una parola. Diciamo che è più di famiglia, è più del lavoro, è più del bene. Cioè è proprio un rapporto, in tutti i momenti di difficoltà o di gioia, comunque lui c'è sempre. E viceversa. E come riesci se ci riesci? A scindere. Sì. Allora, i primi anni è stato duro. È stata dura, questo è vero. Infatti se ci fosse qua ti direbbe anche lui la stessa cosa. Perché devi essere brava a switchare, non te lo sto dicendo da amica, te lo sto dicendo dalla persona che lavora per te e con te. Però dopo 15 anni, dopo 14 anni, adesso, sai cosa? Dopo tanti anni che stai insieme a una persona, perché io dico il management, almeno io non so cosa sia la cosa giusta, però so quello che faccio io. Che è più di un matrimonio, ti devi scegliere tutti i giorni, devi avere voglia. Devi avere voglia di, proprio di sceglierti, no? Io ti rappresento fuori e ti racconto fuori. E quindi dopo tanti anni la bellezza, non solo con Marco, poi non succede solo con Marco ovviamente. Con Marco ci sono solo tanti più anni. Però con Francesca, penso con Ale, con Antonio anche se da poco tempo, con Angelina che è pochissimo tempo. Vedere la loro fiducia quando io chiedo qualcosa, dico qualcosa, racconto qualcosa e loro che con Angelina l'altro giorno mi hanno detto non abbiamo bisogno di dirci le cose perché ci capiamo. E quello è il goal. Quello è il click quando scatta la scintilla. Il tuo percorso, come abbiamo raccontato, è stato un percorso costellato da fasi. C'è voluta, immagino, tanta costanza, tanta fermezza e come ne parlavamo poco fa, questa cosa forse, proprio perché è stato abbastanza faticoso riuscire ad arrivare dove sei arrivata, dicevamo, poteva in qualche modo indurirti e ti volevo chiedere se invece oggi riesci a trovare e ritrovare magari la spensieratezza dell'inizio, nonostante qualche maschera che ogni tanto bisogna ancora indostare, immagino. Allora, quando ho iniziato il management avevo 26 anni. Non è che non c'erano tante donne, non c'erano donne sotto, scusate, 30 anni. Ed era anche difficile trovarsi tutto ad un tratto dall'altra parte del tavolo, no? Perché prima eri in discografia e poi dopo tutto ad un tratto ti trovi dall'altra parte a dover prendere delle decisioni. Mi ricordo il primo incontro che abbiamo fatto con Marco è stato dal suo avvocato. E a casa del suo avvocato mi ha fatto una domanda. Ma lei adesso come pensa? Quali saranno i prossimi step che affronterà per il contratto? Una domanda serissima. Io l'ho guardata e ho detto, non ho idea. Anzi, gli ho detto, posso stare con lei del tempo perché vorrei leggere? Vorrei leggere i contratti, vorrei che me li spiegasse. E ancora tuttora è il nostro avvocato, è anche uno dei nostri migliori amici. E lui per esempio mi ha aiutato tantissimo a conoscere il mestiere perché effettivamente, a parte gli scherzi, è un lavoro durissimo che è in continua mutazione perché cambiano i media, perché cambiano le piattaforme, dove se parliamo di musica, ma non solo di musica, devi aver voglia di imparare e di conoscere sempre. Il diritto d'autore è mutevole, cambialo, devi in aggiornamento. Quindi ho iniziato subito a studiare o a farmi raccontare e spiegare. E sicuramente il primo periodo era un po', ti racconto questa, l'avvocato ha finito il nostro incontro, noi usciamo di casa, salgo in macchina con Marco, ding ding, gli arriva un messaggio e ride. Dico, cosa ridi? Guarda cosa mi ha scritto l'avvocato, Romano. Ma te sei sicuro di stacco sta scappata di casa? E lui, sì, sì, però è ancora il nostro avvocato. Quindi inizialmente sicuramente ero... Ti hai chiesto, ti hai chiesto scusa, ti hai invitato a cena. Non lo sa che tu hai letto quel messaggio. No, ma ero effettivamente una scappata di casa, quindi era matto Marco. Però, diciamo, per rispondere alla tua domanda, sicuramente il primo periodo mi ha indurita perché dovevo creare una corazza, cioè dovevo far vedere che ce la potevo fare quando poi dentro avevo mille timori, paure, ma cose che ho anche adesso, perché non è che... anzi. Però quello che ho cercato di fare negli anni è di riuscire a essere autorevole senza essere autoritaria. Che è un po' quello che ho sentito prima, la domanda sulla leadership. È quello che penso... Che l'obiettivo è un po' quello, cercare di avere autorevolezza senza dover essere duri e autoritari. E quindi quando riesci a ottenere quello, per me hai raggiunto un grande punto. Poi ne parlavamo prima del fatto che tu devi gestire tre tipologie di leadership differenti. La leadership con te stessa, la leadership che hai con il tuo team e la leadership che hai con i tuoi artisti. Con la mia famiglia, quattro. E con la tua famiglia, quattro. Con il mio figlio. E lì c'è una variabile umana creativa non indifferente da gestire. Sì, no ma ti dico, quando dicevo prima il management è più di un matrimonio. È vero, cioè ci sono tantissime sfaccettature. A volte sei il migliore amico, la migliore amica, il fratello, un po' lo psicologo, un po'... Ed è quello che facciamo in realtà anche tutti i giorni a casa. E poi col mio team che è una figata. Tu lavori in un settore particolarmente competitivo, soprattutto diciamo negli ultimi tempi, perché come sono cambiate anche delle dinamiche, lo streaming, eccetera. Tu come vivi la competizione e soprattutto come la fai vivere ai tuoi artisti? Maffi. No, allora la competizione in realtà io più di tutto ce l'ho con me stessa. Tantissimo. Cioè io ho bisogno sempre di porre degli obiettivi da raggiungere. A volte anche, cioè, mi rendo conto, e questo dico grazie a mio figlio, cioè da quando sono diventata madre mi sono un pochino più, un pochino, no Maffi, un pochino. Un pochino più calmata. Però diciamo che mi piace non tanto nei confronti degli altri, ma davvero nei confronti di me stessa e del team, no? Quando mi hanno preso, mi prendono in giro, hanno fatto una maglietta in ufficio che si chiama Ho avuto un'idea, la tarma. Da un'idea di? No, perché io quando arrivo in ufficio dico, raga ho avuto un'idea, oh madonna, queste scappano, vanno via. Penso al Lido Mengoni l'anno scorso, Marco, che ho detto, ma come fate un Lido a Sanremo? Cioè già quello c'è a tutti le serate, deve cantare, fate pure il Lido, dove fate le jam, dove... Quindi sì, o penso alla Franci, mi chiedi, ti raccontavo prima, la Franci anche quest'anno è la conduttrice di X-Factor e poi però le ho proposto sta follia di... Nelle settimane, nelle sette settimane in cui lei conduce X-Factor, tutti i sabati facciamo una residency a Milano e lei fa jam, quindi gli ho detto, Franci, perché non inventiamo un posto a Milano dove tu suoni la prima ora e la seconda ora la tua band si rende disponibile insieme a te e fate jam con persone, nuovi artisti, ragazzi, le persone che vengono a vederti. Ieri ha finito alle... ieri sera ha fatto una jam di due ore e un quarto e si era contenta. Inizialmente quando glielo ho proposto mi ha detto, ah, poi dopo un secondo era gasatissima, adesso ecco abbiamo... questo è un esempio. Quindi la competizione c'è tantissimo, io però la vivo più con me che con gli altri. E poi ecco, io ce l'ho più degli artisti che rappresento, questo è vero, infatti anche su questo loro mi prendono in giro. Ma il settore appunto dell'industria musicale è ancora fortemente rappresentato da uomini? Allora, ci sono delle manager donne e che, vabbè, c'è una in particolare che è mia sorella che io adoro, che stimo, che è Paola Zuccar che, insomma, rappresentava Rakesh, Madame, Fabri Fibra, Clementino. E lei, che è un po' più grande di me, è stata anche un po' il mio... cioè, la guardavo... Lei forse è stata un po' la prima, diciamo, di nuova generazione di manager, soprattutto in un settore che quando ha iniziato lei non si filava nessuno, parliamo di rap e trap. Sì, in discografia e in tv, perché poi io ho iniziato nella musica non sapendo niente del management musicale come ho iniziato nella televisione non sapendo niente, perché quando Ale è venuto da me io non avevo anche lì idea di... e anche lì è stato Ale a vedere evidentemente qualcosa che io non avevo visto e, diciamo, la parte dirigenziale è sicuramente, soprattutto nella musica, molto più maschile che femminile però a fatica e lentamente vedo degli upgrade, vedo dei miglioramenti è ovvio che quando ho iniziato, ripeto, ero donna di 26 anni, cioè, non mi guardavano neanche in faccia cioè, io entravo negli uffici... in realtà, guarda, non dirò mai chi e come quest'anno... ma fe lo dico... dai no, quest'anno a Sanremo è successa una cosa... no, vabbè, lo dico è arrivato uno, un politico... non ci ascolta nessuno no, è arrivato uno che voleva conoscere il manager di Marco Mengoni e a un certo punto gli dicono, è lei... e lui non mi guarda neanche in faccia e fa, sì, sì, vabbè ma il manager di Marco Mengoni? No, è lei... ah... ma... cioè, mi hanno detto importante che rappresenta un sacco di artisti... ah, quindi sarebbe lei... ma non parlava con me, parlava sempre... ah, quindi sarebbe lei... cioè, parlava con Marco, non ti guardava neanche in faccia... non mi guardava neanche in faccia... però quanto goduto... cioè, proprio... ho goduto... e poi gli ho parlato anche... e lo guardavo in faccia io dritta... così... sì, quindi capita ancora, non è che non capita... però... ripeto... vedo un leggero... non in tutti gli ambiti, però un leggero miglioramento... questa roba qua è una figata... io l'ho vista prima... vedere anche le cose che fate l'anno prossimo, dobbiamo farla insieme... sì, siamo qua... siamo qua... sicuramente possiamo fare delle cose bellissime... e dato che... attorno alla figura del manager... citando anche Call My Agent... c'è tutta una narrazione... anche cinematografica... molto patinata... ma invece raccontaci tu... una giornata tua tipo... e se vogliamo proprio... esagerare... una tua giornata tipo a Sanremo... No, allora... Sanremo non è una roba umana... quindi... Allora, facciamo una giornata tipo normale... una giornata tua tipo di Sanremese... Ok, allora... la mia giornata tipo... normale... mi sveglio... presto la mattina... preparo colazione per il mio compagno e mio figlio... e porto mio figlio all'asilo... e vado in ufficio... e la prima cosa che mi piace è... noi abbiamo una stanzona... appena entri grande... con un tavolone grosso... e io comincio... a fare dei... parlo così ad alta voce... allora... piano piano arrivano... e... e facciamo una sorta di... di brainstorming... così con tutte le ragazze di tutti i team diversi... perché poi dall'anno scorso non c'è più solo il management... ma abbiamo aperto anche un'etichetta discografica... e una... è una realtà che produce eventi... eventi... ma no... lui... lui mi ha detto... no... allora... siccome capitava nell'ultimo periodo che mi chiedessero di fare magari la direzione creativa... artistica di alcuni eventi... e... e mi gasava farlo... allora ho detto... perché non... non farlo in maniera strutturale... e quindi... ho richiamato una mia collega di Sony Music di 15 anni fa... che nel frattempo... quando io sono andata via... lei è andata in Balic Group... quindi aveva fatto un lungo... percorso... nella produzione degli eventi... l'ho chiamata... lei è amata quanto me... e gli ho detto... ma ti licenzi... vieni a lavorare da me... apriamo la divisione... e gli ho detto... sì... ma tu c'è un figlio... tutto a posto... sì sì... vengo vengo... guarda che è una start up... vengo vengo... e quindi abbiamo iniziato l'anno scorso... e... e stiamo facendo... abbiamo fatto delle cose fighissime... penso al lancio di Paramount Plus a Cinecittà... penso al lancio di Netflix... di una serie fatta adesso in un vertical stage in centro a Milano... penso alla festa del Salone del Mobile... cose anche tutte diverse... e dove sempre però l'obiettivo è... che valore aggiunto siamo noi in questo progetto... cioè... non mi interessa di fare la festa aziendale di Natale... se non è una cosa che effettivamente sia valoriale per loro e per noi... qualcuno che canta la tua festa aziendale secondo me lo trovi... però non mi stai raccontando la tua giornata... infatti scusa... vado con Orlando... lo porto a scuola... poi vado in ufficio... faccio... parliamo un po'... facciamo colazione... ce la raccontiamo... prima mi raccontano le loro giornate... perché sono tutte diverse... e poi... non sempre ci siamo tutte... perché... c'è chi è in tour... a fare il tour europeo... chi è in giro... a fargli shooting... e bla bla bla... quindi quando riusciamo ad esserci tutte... mi piace stare lì nello stanzone... che ci raccontiamo... le vite private... i fidanzati... il ciclo... le incazzature... queste cose qua... poi dopo... che ci siamo... abbiamo sfogato... e... io inizio... mi piace tanto fare il recap... artista per artista progetto... quindi dico... ci manca questo... dobbiamo fare quello... così... poi... iniziano... le riunioni... perché poi... il mio obiettivo è... che orizzontalmente... tutte sappiano tutto... quello che succede... perché... quando lavoravo in un'azienda... io guardavo... eravamo obbligate a lavorare... sul nostro orticello... no? quindi... io... vedevo soltanto quello che mi capitava... all'intorno... e non avevo la possibilità di alzare la testa... e vedere il resto... quindi... secondo me... non lavori bene... e... per questo io... preferisco che... tutte sappiano tutto... di quello che sta succedendo... anche... che gli eventi sappiano della discografia... che la discografia sappia tutto... perché... non si sa mai... magari... esce il singolo di Angelina... e... a chi... fa gli eventi... gli viene in mente... un evento di lancio del singolo... piuttosto che... alla maffi... di comunicare una cosa... per un brand... quindi... è importante che tutte sappiano tutto... poi... ovviamente... verticalmente... ognuna ha il suo ruolo... quindi... poi inizia la giornata... dove ognuno fa le proprie cose... si pranza... tendenzialmente... sempre insieme... lì... nello stesso stanzone... e non si parla di lavoro... tendenzialmente... ma quindi non è vero che un agente è sempre in giro... o sei sempre in giro... non ce lo vuoi dire... si sta in gi... tipo... questo mese di ottobre è stato molto faticoso... e ringrazio... che non mi sta sentendo... perché è via... però il mio compagno che mi ha fatto... vivere questo mese... fu... folle... perché... avevamo delle concomitanze... di progetti... e quindi questo mese... non ci siamo visti ancora tantissimo... però dalla settimana prossima... siamo più tranquille... quindi avremo modo di rivederci di più... e poi... a un certo orario... nessuno beggia... quindi non ci hanno obblighi di arrivare a certi orari... andare via in certi orari... c'è chi arriva molto presto... e magari va via prima... o piuttosto chi... arriva tardi... e io passo... sotto l'ufficio le 10 di sera... e vedo ancora la luce accesa... e... così... questa è la mia giornata... diciamo... e ovviamente anche tanto in giro... perché devi andare a fare... vai in studio di registrazione... ascoltare una roba nuova... che stanno scrivendo... piuttosto che vai a... questo mese qua... c'era Alessandro Cattelan... che aveva martedì e mercoledì il programma... poi è iniziata la Francia... il giovedì con X Factor... c'era Marco in tour europeo... e Angelina in tour italiano... quindi ecco... io ero un po'... così... però per fortuna... non essendo più da sola... non faccio tutto... e quindi ci dividiamo bene con tutto il team... invece Sanremo... ma Sanremo secondo me... è diventata la settimana santa per tutti... e non solo per noi... si ferma un po' il paese... a livello proprio culturale... non è più solo musicale... e... l'anno scorso... e lo rifaremo anche quest'anno per esempio... ti racconto questa... abbiamo fatto dei blind lunch... infatti ti invito... beh... ci sono... sì... praticamente ho pensato... allora... io ho una fortuna... devo dire... conosco un sacco di gente... e... nella settimana di Sanremo... c'è tutto il mondo... tutto... ma perché non facciamo un pranzo... io ho offerto il pranzo a 15 persone... ma nessuno sapeva chi fosse seduto al tavolo quel giorno... abbiamo scritto delle micro bio di ognuno... e quindi tu presentavi me... io presentavo lei... lei presentava lei... e vedere davvero... il manager di Calcutta... che è un mio amico... Davide Cauci... accanto a... il managing director di Dazon... che parlavano... cioè... è stato fatto... proprio per dire... nella settimana più... folle... più folle dell'anno... è bello creare networking... vero... infatti... ho contattato LinkedIn... perché volevo che fosse un LinkedIn real... no... infatti sono anche venuti... mi pare... maffi... vero... da Londra... quest'anno lo rifaccio... ecco perché... quindi... io vivo la settimana di Sanremo in questo modo qua... è una super possibilità di... di... arricchirti... conoscere... imparare... e quindi la devi... prendere tutta... e... per concludere... sì... ho imparato troppo... no... guarda... abbiamo dieci secondi... qual è il merito... che ti riconosci... in assoluto? il merito... e... delle persone che sono con me... grazie... 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 grazie...